Stato for To Un'intera giornata di informazione con l'obiettivo di offrire una panoramica dei principali attori che operano sul territorio regionale a favore dell'ecosistema delle start-up. Fare chiarezza e promuovere un'occasione concreta di incontro e confronto tra chi ha un'idea o un progetto di impresa e chi offre sostegno per la sua realizzazione. Noi innanzitutto siamo molto felici per come sta venendo la giornata, abbiamo avuto un boom di partecipazione che forse non ci aspettavamo quindi vuol dire che c'è molta sensibilità sull'argomento a livello di territorio anche perché appunto è la prima volta che si riesce a fare una cosa come questa a livello italiano. E quindi siamo molto contenti ma soprattutto ci auguriamo che ci sia poi effettivamente un boom di nuove start-up a succedere di questo evento. Abbiamo tanti progetti come gruppo giovani, quello che inizierà più a breve termine e che sarà la continuazione naturale di questo sarà il progetto della GG Academy chiamato oggi, Officine Gruppo Giovani Imprenditori che vuole essere l'ambizione di essere una scuola di alta formazione per la nuova imprenditorialità, avrà inizio appunto il 10 di dicembre e sarà proprio una modalità un po' diversa per far sviluppare la cultura d'impresa. Quindi mettendo insieme da una parte sarà una cosa fatta con l'Università di Torino, il Politecnico di Torino, gli incubatori, noi come gruppo giovani imprenditori vuole proprio dare la possibilità a chi vuole fare start-up non soltanto di farla ma anche di farla crescere. Grazie a tutti!